Oggi si presenta il numero 58 della rivista Psicoanalisi, lei è caporedattore, innanzitutto da lei vorrei una breve panoramica della rivista, anche per spiegare che cos'è, quando è nata, qual è la sua storia. La rivista nasce nel 1987, il direttore, diciamo colui che ha ispirato questa rivista è Jacques Lemmiller, che è il direttore del Dipartimento di Psicoanalisi dell'Università di Perigiotto, quindi sono tanti anni che è nata la nostra rivista. Ora siamo arrivati al numero 61, che sarà dedicato a Joyce, ogni numero più o meno è strutturato in questo modo, c'è un testo di Lacan inedito, a volte spesso inedito, c'è poi un testo di Jacques Lemmiller, che per noi è colui che ci ha insegnato a leggere Lacan, Dopodiché, diciamo, ogni numero è comunque dedicato ad un tema, sono stati vari temi che abbiamo così trattato, si va dalla femminilità all'odio, alla vergogna, all'amore, al cinema. In un numero, non solo un numero, c'è un'intervista inedita a Colin Fert di Antonio Di Ciaccia, Colin Fert del premio Oscar. Dopodiché, ogni numero pubblica dei corsi tenuti da Jacques Lemmiller a Parigi, sono stati pubblicati vari corsi, sono spesso inediti questi corsi, pubblicati spesso soltanto in spagnolo, alcuni soltanto in francese. Quindi, c'è questa possibilità che ci offre Miller di pubblicare da noi i suoi corsi. Il tema di oggi è abbastanza complesso, molto complesso, riguarda il rapporto tra psicoanalisi e religione, psicoanalisi e Dio, anzi, il titolo non è a caso, penso. Brevemente, voi avete fatto un excursus, diciamo, di quello a cui è arrivato Freud, quello che poi ha proseguito Lacan. Mi può spiegare brevemente che cosa è mancato a Freud per andare oltre e invece cosa ha avuto Lacan per continuare il suo discorso? Ok, proprio in maniera sintetica queste cose, insomma, sintetizzarle sempre un po'. Allora, diciamo così, che la verità della religione, per Freud, la verità della religione, la verità di Dio è il padre. Quindi, dietro Dio c'è il padre. Quindi, in qualche modo, viene prima il padre e poi Dio. Diciamo, questo è Freud. Quindi, diciamo, il concetto fondamentale è quello dell'interdetto. Ci vuole qualcuno che interdice questo godimento di cui si parlava questa sera. L'idea di Lacan è che Freud si sia in qualche modo fermato, il suo discorso, lui dice, è rimasto sospeso, ossia si è fermato al padre, questo padre che alla fine diventa, secondo Lacan, un padre tutto amore, come era Dio. L'idea di Lacan è che si tratta di andare oltre, lui è andato oltre, in qualche modo. Come dice Miller in questo testo, Lacan perfora la metafora paterna. Il concetto di metafora paterna è un modo in cui Lacan riassume questa teoria di Freud, questa tesi di Freud sul padre. Bene, Lacan perfora questa metafora e fa vedere fondamentalmente, diciamo, a partire dagli anni 70 in poi, che in realtà questo interdetto di cui parlava Freud nasconde soltanto quello che lui chiama un impossibile. Quello che si diceva adesso questa sera è il fatto che il godimento non raggiunge mai il suo compimento. C'è qualcosa che viene sempre perso, si perde. E l'impossibile è questo fondamentalmente. Non c'è bisogno di un padre per interdire. Il godimento è già di per sé interdetto, lui dice, a chi parla come tale. Non c'è bisogno di un padre per interdito, lui dice, a chi parla come tale. Non c'è bisogno di un padre per interdito, lui dice, a chi parla come tale.